Figlia primogenita di Francesco Bottazzi, un avvocato di origine modenese, baritono dilettante, che la sostenne avviandola fin da giovanissima alla musica e al canto. Si trasferì con la famiglia a metà degli anni 30 a Viareggio e, dopo aver cantato poco più che adolescente in gruppi vocali locali, formò ben presto con le sorelle Maria Paola e Maria Antonietta il trio Fiordaliso. Un gruppo musicale vocale che seguiva le orme del trio Lescano e di formazioni omologhe dell'epoca. Nel 1940 superò fra 1.200 iscritti un provino per il programma radiofonico l'ora del dilettante che le consentì di esordire come cantante solista professionista. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale rallentò solo in parte la sua attività. Fu infatti impegnata ad alleviare cantando per loro le pene dei feriti ricoverati negli ospedali via Reggini. Nella circostanza riformò per qualche tempo il trio vocale con le sorelle, con le quali fu accompagnata dal padre a Milano a incidere per la Columbia. I pesanti bombardamenti cui era sottoposto il capoluogo Lombardo costrinsero però ben presto il trio allo scioglimento. Sposatasi nel 1945 con Raffaele Brissa, Marisa Fiordaliso riprese nell'immediato dopoguerra l'attività alla radio e l'incisione di dischi. A 78 giri, la sua carriera terminò nella seconda metà degli anni 50 quando cominciavano a farsi avanti. Le nuove leve e i primi urlatori